Sarà interrogato nella giornata di domani Cosimo Pagnani, il 32enne arrestato in flagranza di rato che ieri sera a Postiglione nel Salernitano ha coltellato a morte l'ex moglie Maria D'Antonio. L'uomo è stato trovato nell'abitazione dove è stata uccisa la donna dai carabinieri della compagnia di Eboli diretti dal capitano Alessandro Cisternino. Era agitato e stava cercando di tamponare il sangue che usciva copiosamente da una ferita al ginocchio procuratasi nel corso della colluttazione. La donna infatti è stata uccisa con un coltello utilizzato per lavori da agricoltore. Dopo essere stato portato in ospedale per le medicazioni, l'omicida non ha fornito nessuna informazione al PM della procura di Salerno sui motivi del folle gesto avvenuto a seguito di una lite. Al momento è stato trasferito nel carcere di Forni, si attenderà domani quando comparirà davanti al GIP ed in quell'occasione potrà fornire delle spiegazioni. I carabinieri della compagnia di Eboli proseguono le indagini, agghiaccianti particolari che fanno da sfondo all'efferato omicidio. L'uomo ha postato sul suo profilo Facebook un eloquente messaggio all'esame dei carabinieri. Il delitto è avvenuto intorno alle 19 nell'abitazione della donna a postiglione e presumibilmente quel post su Facebook è comparso due ore prima. I motivi dell'omicidio dovrebbero essere legati alla sfera puramente familiare. La storia della coppia che aveva una bambina di 4 anni era travagliata. Lui a giugno aveva sottratto la bimba alla madre e l'aveva portata con sé in Germania per una decina di giorni. Solo la denuncia della donna l'aveva fatto rientrare in Italia per riconsegnare la figlia alla madre che ne deteneva la custodia legale. Ma si intravede anche una storia di dolore e rabbia dietro il folle gesto compiuto ieri dall'uomo.